...dalla sede RAE di Torino, Bruno Tinti che dovrebbe aver ascoltato tutta quanta la nostra chiacchierata. Buongiorno. Il professore aggiunto a Torino è l'editorialista di Il Fatto Quotidiano. E cioè, cosa ne pensate del processo breve? Tinti che dice? Ma guardi, ho sentito tante cose giuste, tutte inquinate da una partenza sbagliata. Il processo breve è una truffa, nel senso che viene rappresentato ai cittadini come un qualcosa che ci si stupisce che non si voglia. In realtà, chi non vorrebbe un processo che duri il giusto? Quando io dico che duri il giusto, sto facendo riferimento proprio alla natura tipica del processo, che non può avere termini, perché nessuno può sapere qual è la misura giusta di un processo. Un processo per guida senza patente durerà un giorno e se contiamo tutti gli adempimenti procedurali che lo devono accompagnare durerà sfortunatamente, e qui ci dovremo tornare, un anno. Ma un processo per falso in bilancio di una società multinazionale con sede a Milano, a Roma, a Torino, il che radica la competenza in Italia, non si fa a sapere quanto dura. Se io devo fare una rogatoria a Londra, al celebre Sirius Fraud Office, che mi risponde dopo due o tre anni, posso dire dall'inizio che so quanto durerà questo processo per falso in bilancio? Certamente no. Posso solo dire che devo mettere in piedi un'organizzazione giudiziaria che mi permetta di ottimizzare i tempi e di fare il processo nel tempo più breve possibile, che non è il processo breve, è il processo fatto in maniera efficiente. Allora, posso capire che uno abbia una certa diffidenza nei confronti di un'organizzazione, parlo dell'organizzazione giudiziaria, che in qualche modo negli anni ha dimostrato ai cittadini che i processi sono molto lunghi. È un po' come se nelle strade ci fosse la spazzatura. È facile prendersela con gli spazzini. Perché lo spazzino non viene a prendere il bidone, a vuotare il bidone davanti alla mia casa? Il problema è che bisogna dare allo spazzino il camion oppure la pala e il carrellino per portarla via. Quindi voglio dire, io sono d'accordo sul fatto che non devo dare un giudizio inquinato dalla mera circostanza che Berlusconi con questo processo breve evita di sentirsi definire ufficialmente corruttore. Sarei anche favorevole a una norma che velocizzi il processo, ma non posso pensare di dare un termine senza modificare nulla della situazione che ha portato il processo penale italiano a durare in media otto anni. Che due, cosa rispondete al Ministro Alfano che tra le altre cose sostiene che i magistrati protestino contro le riforme proposte solo per difendere prerogative e privilegi di casta? Che dice? Partiamo da Bruno Tinti. Ma guardi, è veramente una sciocchezza perché non si capisce quale privilegio dei magistrati sarebbe attaccato dalla legge sul processo breve. Si sta semplicemente dicendo in questa legge che il processo deve durare tre anni in primo grado. In qual modo la prerogativa, il privilegio del magistrato viene attaccato da una previsione del genere? Vorrei cercare di far capire una cosa. Di tutto questo impianto normativo, molto breve fra l'altro, del processo breve, a differenza, mi consentiate, di tutto quello che è stato detto fino adesso, io una norma, la salverei. E sapete qual è? È proprio una norma transitoria. Voglio dire, in fondo, da un punto di vista razionale, pensateci su, che senso ha mandare avanti un processo per un reato che si prescriverà comunque fra un mese o un mese dopo la sentenza. Questa è la prova di quanto la presenza di Berlusconi inquini il dibattito tecnico sull'organizzazione giudiziaria. Un elementare principio di organizzazione dovrebbe far sì che in ogni tribunale si tirassero fuori tutti i processi pendenti e poi si facesse un calcolo di quelli che si prescrivono a seconda della fase in cui si trovano in un tempo tale che impedisce comunque di arrivare a una sentenza nel merito. Quei processi non devono essere fatti, sono risorse buttate dalla finestra. Questa norma transitoria, in realtà, perché è il campo di battaglia? Perché è la norma ad persona ma per Berlusconi. Esatto, è questo che lei, mi permette di interrompere, lei dottor Tinti, quando dico esatto mi rifinisco a quello che afferma nella questione immorale il suo libro. Lei sostiene una tesi molto forte, secondo cui una giustizia che funzioni veramente fa paura, troppa paura. Per questo il potere politico cercherebbe di sottometterla con delle leggi nate apposta per questo. In quest'ottica, dicevo esatto, mi può confermare. E poi un'opinione di Cantone. Guardi, che il processo penale italiano, io di quello mi occupo perché di civile non so nulla, non avendo mai fatto il giudice civile, duri otto anni in media, non è dovuto ad altro che a una legislazione fatta per allungare il processo. Il nostro codice di procedura penale è costruito per non far funzionare il processo. Il processo non può funzionare perché se funzionasse una gran parte della classe dirigente italiana finirebbe in prigione. Su questo non c'è alcun dubbio. C'è un bellissimo libro scritto da Davigo, le conseguenze di Tangentopoli. È semplicemente ripercorrere tutto quello che è successo con le sentenze che ci sono state dopo Tangentopoli. In prigione non c'è finito nessuno.